ciao ragazzi un saluto da pietro spataro allora allora faccio questo brevissimo video che per fare auguri a uno youtuber gli auguri di buon compleanno a max montagna channel sono sono iscritto al suo canale youtube seguo anche i suoi video caro max ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno forse hai 57 anni va ma ti faccio gli auguri io lo stesso buon compleanno max e goditi la tua vita di questo giorno speciale tuo che ci fai sempre divertire su pes no sei molto bravo a pes sei molto bravo a fare le juventus news poi che altro dire speriamo che le tue parole possono avverarsi no parlavi anche della coppa della champions league che dici noi tifosi juventini ce lo meritiamo della champions league su questo sono d'accordo con te vabbè ragazzi auguri a max montagna channel un grosso bacio se il video di oggi vi è piaciuto vi invito che lasciate un mi piace di commentare qua sotto iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno seguitemi su facebook e anche su instagram ci vediamo molto presto per i miei prossimi video come dici tu max montagna channel fino alla fine forza juventus forever endeavor uber halles pirlo uno di noi ciao a tutti